Una piazza di spaccio di marijuana, scanche e cocaina in via ustica nel popoloso quartiere di San Giovanni Galermo a Catania, nelle mani di un gruppo ben organizzato che gestiva con regolarità e costanza il giro di droga con una perfetta distribuzione di compiti tra capipiazza, pusher, vedette e custodi dello stupefacente. La banda è stata sgominata dalla polizia che ha arrestato 33 persone, per un'altra invece è scattato l'obbligo di dimora. E' l'operazione Mezzaluna, portata a termine all'alba di martedì 15 marzo dalla squadra mobile Etnea che con il contributo operativo dello SCO di Roma ha ricostruito dinamica interna al gruppo, identificato i vertici e delineato i ruoli di spacciatori e vedette. Secondo la DDA di Catania, che ha coordinato le indagini, i capi promotori erano Vito Claudio Gangi, 55 anni, Concetto Renato Consoli, 56 e Carmelo Ventaloro, 58. Lo spaccio di marijuana e cocaina, secondo l'ipotesi accusatoria, si sarebbe svolto su cinque turni, suddivisi per luoghi e distribuiti su diverse fasce orarie, in strada e in case fortificate. La vendita è stata ripresa da telecamere nascoste dalla polizia e dove non è stato possibile installarle, sono entrati in azione agenti sotto copertura. Per incrementare il proprio giro d'affari, secondo la procura, l'organizzazione gestiva la piazza di spaccio seguendo una vera e propria strategia commerciale. Alla vigilia di Natale, per esempio, per fidelizzare gli acquirenti, i capi facevano arrivare strada una grossa fornitura di panettoni, regalati come omaggio ai clienti abituali. I proventi illeciti sono stati stimati dalla DDA in 10.000 euro al giorno. I soldi confluivano nella cassa comune del gruppo, alla cui gestione era preposto uno degli indagati che riscuoteva le somme a casa sua, dove veniva raggiunto da diversi componenti dell'associazione a chiusura del turno di spaccio. Secondo le indagini, la cocaina arrivava a Catania tramite contatti con trafficanti calabresi. Nel giugno del 2020, nel porto di Messina, la polizia aveva infatti arrestato Salvatore Giuffrida, dopo essere sbarcato dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni, che aveva in auto 5 kg di cocaina destinata, secondo gli inquirenti, proprio alla piazza di spaccio di Via Ustica.